Allora, ritorniamo su questo testo. Chi ha malato chiami presso di sé i presbiteri della Chiesa ed essi preghino su di lui ungendolo con l'olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato, il Signore lo solleverà e se ha commesso peccati li saranno perdonati. Confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri per essere guariti. Molto potente è la preghiera fervorosa del giusto. Questo è un testo che sotto il profilo pastorale è enorme, grande e anche ha una sua forza. Come ripeto, qui noi ci troviamo di fronte a una testimonianza di un doppio sacramento. Unzione e riconciliazione. Vissuto ovviamente secondo la mentalità di allora. Per quanto riguarda l'unzione degli infermi bisogna dire che l'olio è sempre stato visto nelle culture antiche come una specie di medicina, una specie di cortisone dell'epoca. Oggi qualunque cosa tu abbia di strano, il medico ti rifila il cortisone. E così anche quella volta c'erano delle malattie, veniva adoperato l'olio. E come veniva guarita una piaga, si versava del vino che contemporaneamente puliva e oggi diciamo disinfettava. E poi veniva versato dell'olio per attenuare il dolore. Oggi se tu versi olio sulla ferita il medico ti fulmina, perché dice, l'hai appena pulita. Lascia la ferita pulita, si arrangia da sola a guarire. Una volta lo attenuavano così, ovviamente peggiorando in parte la situazione. Quell'elemento che nella quotidianità era esperimentato come elemento guaritore viene assunto come materia per il sacramento. E quindi contemporaneamente, per la cultura di allora, il sacramento era un gesto di salvezza, ma anche un gesto terapeutico. Se noi ci riflettiamo un momento, anche la riconciliazione ha lo stesso valore. E che i preti dovrebbero conoscere un po' di più di psicologia. Quando morirò avrei piacere che nella tomba fosse scritto «Ha introdotto la scienza psicologica nella formazione del presbitero». Perché quando ero preside dello studio teologico, non si dice in italiano «Ho esigito, ma non si dice». Ho preteso che il Vescovo desse il permesso di questo insegnamento. C'è ancora? Ma, per quanto riesco a capire, non è sufficiente. Quando nel 1971, l'anno prima di diventare prete, Monsignor Abramo Freschi mi ha detto «Ma, dice, potresti studiare psicologia». Io, durante l'estate, mi ero anche impegnato a leggere un libro, «La psicologia dello Sheldon», che allora andava per la maggiore, e questo signore, da buon anglofono, per ogni capitolo metteva la frase celebre, tipico della letteratura inglese. Titolo «Frasi celebre, testo». Sul rapporto con la realtà, uno degli elementi più delicati della psicologia, l'aderenza al reale, questo signore ha scritto «La donna dice la verità anche quando mente, e mente anche mentre sta dicendo la verità». Io ho chiuso il libro, ero in uno di questi camerini che voi vedete, e ha fatto un volo sto libro, e ho detto «Mai più!» Perché per capire qualcosa bisogna essere laureati in psicologia cosmica. Capire le persone non è facile. La riconciliazione potrebbe essere un momento in cui, dall'umano, terapia psicologica, si passa all'esperienza divina, che è la riconciliazione. I sacramenti non si fondano sullo spiritualismo, ma sono tutti segni salvifici che si fondano su un'esperienza positiva umana. Tutti. noi oggi invece abbiamo sacralizzato così tanto questi sacramenti di averli fatti diventare qualcosa di lontano rispetto alla vita quotidiana. Bene. Naturalmente questi qua li ungevano, questi presbiteri ungevano il malato nel nome del Signore, non nel nome di Esculapio o di Ippocrate. cioè non lo facevano con lo scopo di essere guaritori anche se dentro a quel gesto c'era l'elemento di guarigione. Lo facevano nel nome del Signore. Questa è un'espressione tecnica ento onomatitukiriu che viene adoperata molto spesso. per indicare qualche cosa di salvifico. Battezzati nel nome del Signore. Unti nel nome del Signore. Lavati nel nome del Signore. Questo nel nome del Signore è una specie di ritornello che ritorna per alcune azioni che venivano fatte nella Chiesa nascente. La preghiera fatta con fede però salverà il malato. Che cosa si intende per salverà il malato? Questo è il verbo Sosei. Nel greco adoperato nel Nuovo Testamento il verbo Sozo salvare ha due significati. Può indicare la salvezza eterna quindi questo sacramento consegnerà il moribondo nelle mani di Dio e vivrà sempre con Lui salvezza ma Sozo significa anche guarire. Indica tutte e due le cose. E allora la domanda è cosa intende questa frase? La preghiera fatta con fede salverà il malato? La frase successiva tenta di dare la spiegazione il Signore lo solleverà allora lo guarisce e se ha commesso peccati li saranno perdonati ma allora lo salva. Se voi notate c'è la dimensione terapeutica e la dimensione spirituale di per sé ogni sacramento dovrebbe avere questo ruolo di avere un qualche cosa di terapeutico e qualche cosa di salvifico messo insieme in un'unica esperienza. problema è da chi dipende far sì che il sacramento abbia queste due portate? Se voi interrogate i preti i preti dicono dipende dal fedele. Interrogate i fedeli se siamo onesti dipende da tutti e due perché un sacramento sì è gestito prima dal prete e poi dal credente ma se il prete gestisce bene il sacramento e il credente è una patata capite bene che la gestione positiva dell'uno non ha una ricaduta positiva nell'altro e viceversa se il penitente gestisce bene il sacramento ma il prete lo gestisce male la cosa non funziona sono tutti due che devono essere preparati a vivere quel momento sia umanamente sia spiritualmente il grosso problema è trovare l'aggancio iniziale vediamo se riesco ad essere chiaro se io voglio bene a una persona ma resto in silenzio duro come uno stoccafisso quella persona riesce a sapere se io la amo o lo amo no di certo occorre che ci sia un canale comunicativo che può essere la parola il gesto noi abbiamo un corpo che viene chiamato in antropologia il protosimbolo il simbolo iniziale se io al bambino faccio una carezza in fondo allungo l'arto superiore e con la mano tocco leggermente la pelle della guancia si è un gesto che nella nostra cultura indica non fatelo mai in Giappone in Giappone i bambini non si toccano è solo la madre che può toccarlo bene se a me manca il braccio io non posso fare quel gesto quel simbolo cessa di esistere il corpo dunque è la sede di tutti i nostri simboli cioè di quei ponti comunicativi che aiutano a trasmettere l'incomunicabile se io sto zitto e non mi muovo l'affetto che io ho per un'altra persona resta dentro di me ma non viene comunicato io ho bisogno del simbolo per comunicarlo ci siamo e senza il corpo il simbolo non c'è il sacramento vive la stessa dimensione noi abbiamo bisogno del corpo che fa da ponte fra il trascendente ed immanente tra il soprannaturale e la nostra naturalità se voi notate Gesù Cristo è stato un genio chi mangia il mio corpo azione antropologica e beve il mio sangue azione antropologica siamo a livello di esperienza naturale alla vita eterna esperienza soprannaturale i sacramenti sono fondati sullo stesso piano in cui è fondato l'affetto volete capire i sacramenti dovete capire la dinamica del voler bene se no non si capisce abbiamo visto in questo caso anche l'altro sacramento che ha una forma a noi estranea ormai estranea nessuno di noi va a confessarsi da un altro laico ma si va a confessarsi o da un prete o da un vescovo una volta invece succedeva che anche tra laici si confessavano e dove avveniva la soluzione qui c'è la confessione e poi c'è il pregare gli uni per gli altri questa forma ha fatto sì che nella chiesa antica ci fossero molti modi per vivere la riconciliazione questi modi comportavano sempre una confessione a qualcuno scusate il paragone quando voi andate dallo psicoterapeuta voi vi confessate dite ho questo problema ho vissuto questo trauma è una forma di confessione la riconciliazione che dovrebbe essere una terapia sia umana sia sopranaturale ha bisogno di questo dire la forma del perdono nella chiesa antica era molto varia c'era la preghiera c'era l'opera di carità c'era il pellegrinaggio c'era la lettura della scrittura qualche altra volta c'era perfino la consacrazione monastica questa consacrazione monastica equivaleva a un nuovo battesimo e quindi il monaco cambiava nome la monaca cambiava nome perciò nel momento in cui il laico diventava membro di una comunità monastica era ribattezzato e perciò i peccati erano perdonati sono tutte forme che oggi come oggi non si sa perché la chiesa non le vuole come forma di perdono ma sappiate che sono valide la chiesa non ne parla proviamo adesso a dare un'occhiatina alla strana formula dell'unzione degli infermi il sacerdote unge del malato e dice per questa santa unzione e la sua pissima misericordia ti aiuti il signore con la grazia dello spirito santo e l'ammalato dovrebbe se può dire amen se no lo dice il prete e liberandoti dai peccati ti salvi e nella sua bontà ti sollevi da dove sono state pescate quelle parole dal testo di Giacomo la preghiera fatta con fede salverà il malato ti salvi il signore lo solleverà e nella sua bontà ti sollevi ci siete perciò questa formula che è recente avrà novecento anni forse un secolo anche in meno è stata articolata questa formula nasce dall'università prima del millecento noi abbiamo queste grandi menti che sono alcuni vescovi con la nascita dell'università quale prima Bo Parigi Padova Bologna solo Dio lo sa inizia il cosiddetto Magistero dei Doctores e sono loro che incominciano una riflessione sul perdonate la parolaccia il emorfismo per ogni sacramento ci deve sempre essere il ministro la materia la forma fin quando si tratta esempio del battesimo è anche facile il ministro è uno appartenente all'ordine sacro diacono prete vescovo la materia è l'acqua e la forma è io ti battezzo nel nome del padre del figlio dello spirito santo formula presa di sana pianta dal vangelo di Matteo se noi infatti andiamo a vedere il vangelo di Matteo eccolo qua questa è la formula del battesimo questa è da sempre dalle origini ad oggi io ti battezzo nel nome del padre del figlio dello spirito santo ministro materia forma questo è un criterio elaborato nelle università dai doctores prego nei casi eccezionali non occorreva neanche chiunque può battezzare in caso di necessità anche un ateo un musulmano un ebreo non solo un cristiano per quanto riguarda il battesimo chiunque può battezzare no dirò di più perché vi ho detto non è necessario perché esiste anche il battesimo di desiderio se io sono non cristiano desidero essere battezzato ma muoio prima di ricevere il sacramento io sono battezzato perché c'è il battesimo sacramentale il battesimo di sangue il martire io desidero essere battezzato non arrivo ad essere battezzato con il sacramento ma mi prendono io faccio la mia confessione di fede cristiana e mi uccidono per questo io sono battezzato è il battesimo di sangue io desidero essere battezzato non riesco per tanti motivi muoio prima io sono battezzato tre dunque i battesimi sacramento sangue desiderio quando il bambino viene battezzato non viene battezzato con la sua fede ma viene battezzato con la fede dei genitori piccolo o grande così a noi non deve interessare perché la proporzione della fede è vista solo da Dio per misurare la tua fede esci fuori e di al piancavallo che si sposti se non si sposta vuol dire che la tua fede è ancora più piccola di un granellino di senapa perché Gesù ha detto se la tua fede è grande tanto un granellino di senapa puoi dire a quella montagna spostati e quella si sposta noi non riusciamo vuol dire che la nostra fede è microscopica sì eppure Dio ci accetta così la fede di quei genitori è quasi nulla ma che ne sai tu battezza il bambino quel bambino è battezzato nella fede dei genitori molto spesso nella fede della nonna quel bambino muore prima non riceve il battesimo sacramentale è battezzato è ovvio è battezzato come il battesimo di desiderio è valido per il soggetto nel caso del piccolino il desiderio della madre è elemento sufficiente per rientrare nel battesimo di desiderio vi è chiaro? quando io giovane biblista dicevo queste cose qua i miei amici teologi dogmatici mi dicevano che ero un eretico perché negavo il limbo e io dicevo amici miei guardate il limbo è un'ipotesi teologica non una certezza il paradiso è una certezza l'inferno è una certezza il purgatorio è una certezza ma il limbo no prima o dopo il tempo è galantuomo e un certo papa chiamato Ratzinger lo ha detto chiaro e tondo i bambini che muoiono senza battesimo rientrano nella misericordia di Dio battesimo di desiderio dove il sacramento non c'è ma la salvezza si ci siamo? Gesù ha detto andate dunque fate discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo domanda questa azione quante forme ha di esecuzione? tre vi è chiaro? bene quello che a me premeva farvi notare era come queste formule sacramentali dipendano sempre direttamente dalla testimonianza biblica vi ho mostrato solo due cosucce ma era importante questo oggi la formula della riconciliazione è piuttosto impegnativa perché mamma mia hanno voluto inserire dentro tutto l'inseribile perché questa è una formula che nasce dopo il Vaticano II questa preghiera qua prima del Vaticano II non c'era Dio Padre di Misericordia che ha riconciliato a sé il mondo nella morte e risurrezione del suo figlio e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati ti concede mediante il Ministero della Chiesa il perdono e la pace questa invece è la formula originale che dal 1100 a oggi si è sempre ripetuta prima non c'era questo è un frutto dei doctores dell'università di Parigi bu Bologna chi lo sa Padova non so dirvi ma nasce dall'università bene l'altro brano su cui mi piacerebbe che si soffermassimo un pochetto è questo allora adefoi mu fratelli miei e antis e nimim planneze apotesale teias allontanarsi dalla verità cosa vuol dire? per noi occidentali allontanarsi della verità significa c'è un concetto questo concetto è stato dichiarato nei secoli da Santa Madre Chiesa come vero negarlo significa allontanarsi dalla verità non è proprio così perché c'è stato un rabbino di Nazareth che disse io sono la via la verità e la vita quindi allontanarsi dalla verità vuol dire perdere la fede in Cristo non vuol dire diventare eretico nego una verità quindi sono dentro un'eresia chi mi converte dall'eresia ha i peccati perdonati no 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 allontanarsi dalla verità significa perdere la fede e guardate che succede molto più spesso di quanto voi pensiate dunque se uno di voi si allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce se voi notate allontanarsi è un verbo di movimento non dice se uno di voi nega la verità quello è un fatto intellettuale allontanarsi significa progressivamente c'è la verità tu progressivamente te ne vai la fede si perde progressivamente non si perde mai tutto su un colpo e un altro lo illumina no un altro lo riconduce altro verbo di movimento come ci si allontana dalla fede la fede pian piano la si ricupera a meno che tu non sia Paolo di Tarso e allora boh ti arriva la stangata e tu improvvisamente cambi nella normalità la fede è una cosa che parte da un lumicino e progressivamente si amplifica se tu la coltivi certamente la fede non te la dai te la ritrovi è un dono però aspetta a te coltivarla la quaresima è iniziata con un oremus dove si parla di un tempo per la conoscenza di Cristo è vero che la fede non è un fatto intellettuale però è altrettanto vero che la fede non è sinonimo di ignoranza la fede è fatta anche di conoscenza oggi noi leggeremo un Vangelo che è bellissimo estremamente ricco dove la liturgia con la motosega ti sega tutti i rami e te ne lascia uno solo ascoltatelo e quando tu cominci a capire che cosa significa ascoltare nel linguaggio orientale ti accorgi che devi fare un cammino quindi riportare uno alla fede vuol dire prenderlo per mano avere pazienza inizialmente ti accontenti che questo credente in cammino faccia piccoli passi apparentemente insignificanti per te molto importanti per lui poi capita un momento in cui questa persona non ha più bisogno di te e tu dici è arrivato la fede ma che? è Dio che si sta impegnando a portarlo alla maturità e tu a quel punto lì da buon servo inutile fai un passo indietro ti è chiaro? però tu servo inutile che cos'hai addosso? dopo aver fatto questo e un altro ve lo riconduce costui sarebbe questo sappia che chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore lo salverà dalla morte è interessante che Giacomo chiami peccatore colui che si allontana dalla verità perché lo fa? perdere la fede è un peccato? è assurdo sotto questa dicitura però c'è qualche cosa di tremendo non ti allontani mai da Cristo intellettualmente ma la allontananza viene progressivamente compiuta dal tuo stile di vita e lo stile di vita che ti allontana non ti chiedi più Cristo al posto mio che cosa farebbe dici me ne frego e cominci a fare delle scelte tue nel tuo comportamento diventando come Adamo Dio di te stesso ecco perché viene chiamato peccatore gli è chiaro? non dunque perché perdere la fede sia un peccato è il peccato che ti porta lontano dalla fede costui sappia che chi riconduce un peccatore oltre che a salvarlo coprirà una moltitudine di peccati suoi è un'altra forma di perdono che noi oggi stranamente non insegniamo più alla gente mentre invece parte integrante del cristianesimo provate ad osservare anche quest'altra affermazione che si trova nella letteratura petrina prima lettera di Pietro capitolo quarto versetto ottavo soprattutto conservate tra voi una carità fervente noi potremmo tradurre un atteggiamento di grande generosità beati poveri in spirito la generosità non consiste nel dare ma nell'essere qualcuno mi ha sempre detto ma non è possibile Don Renato che la generosità non consista nel dare va bene se non credi a me credi a qualcuno che ne sa molto più di me c'è un tizio che si chiama Paolo di Tarso se anche dessi in cibo tutti i miei beni come la chiamate questa azione tutto ciò che ho lo do si chiama generosità o no si e se consegnassi il mio corpo per averne vanto tu sei condannato a morte non ti preoccupare mi metto io al posto tuo più generoso di così e poi vado in paradiso io mi metto al posto tuo e poi vado in paradiso e se anche dessi in cibo tutti i miei beni generosità e consegnassi il mio corpo generosità per averne vanto hai è finita è finita la tua destra non sappia ciò che fa la tua sinistra se voi fate come gli scrivi farisei e date per essere visti avete già ottenuto la vostra ricompensa chiusa mentre invece se tu lo fai in maniera discreta per il bene dell'altro il padre tuo che vede nel segreto ti darà la ricompensa dunque anche se io fossi generoso fino a dare la mia vita ma non avessi la carità a nulla mi servirebbe la carità è esattamente l'antitesi del vanto ci siete bene allora la generosità non è data dall'azione io do tutto più azione di così no dipende dal tuo mondo interiore questa è la differenza perché il tuo mondo interiore potrebbe farlo per averne vanto che è l'antitesi di questa libertà interiore che si chiama povertà nello spirito questa è la carità fervente quella che esclude questa dimensione bene questo tipo di carità osservate l'espressione moltitudine di peccati bene in Giacomo c'è la stessa moltitudine di peccati dunque chi riconduce la fede in un'altra persona salverà la persona e per lui coprirà una moltitudine di peccati ma anche la carità fa la stessa cosa quante forme per essere perdonati cucù mi spiego questo ci sta a dire perché nella chiesa dei primi secoli ci si confessava pochissimo una volta nella vita perché venivano i cristiani venivano educati a queste forme di perdono noi queste forme le abbiamo perse e arrischiamo dico arrischiamo non è detto che succeda ma rischiamo di diventare bigotti perché ci dimentichiamo che accanto al sacramento ci sono queste forme di impegno morale nella vita che sono altrettanti di perdoni abbiamo finito Giacomo grazie buona domenica grazie 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 grazie